A Bagnolo non si placano le polemiche sulle condizioni di degrado della stazione ferroviaria. A poco sono servite le rassicurazioni su imminenti interventi che dovrebbero cancellare alcuni dei problemi di sicurezza e di pulizia che si riscontrano nella struttura, frequentato ogni giorno anche ad numerosi pendolari. Ieri un sopralluogo del parlamentare Davide Zanichelli e del consigliere regionale Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, accompagnati dai cittadini del comitato locale che da tempo chiedono interventi risolutivi. Il sottopasso tra vandalismo e sporcizia, il guano dei piccioni sui luoghi frequentati dai viaggiatori, scarsa pulizia, l'ascensore fuori uso e altri problemi sono evidenti. I pentastellati parlano di situazioni imbarazzanti e chiedono alla regione di sollecitare gli interventi necessari a rendere decorosa la stazione, le cui condizioni sono peggiorate dopo un incendio che ha distrutto parte degli alloggi al primo piano avvenuto nel dicembre dello scorso anno e di cui restano ancora i detriti nella zona. Nei giorni scorsi in Consiglio Comunale sono stati annunciati imminenti lavori già da questo mese. Grazie.